Bentornati sul canale, in questo video farò il mio report per quanto riguarda l'Italian Open che si è svolto questo fine settimana a Roma Commentando i future che ho fatto a round 7 e all'ultimo round Prima di iniziare col video però ci tengo a ringraziare tutti gli amici con la quale siamo scesi a Roma Tutti gli amici di Roma che ho trovato sul posto, i ragazzi che mi hanno fermato durante il torneo Soprattutto il team con la quale abbiamo passato due giorni splendidi E appunto i ragazzi dell'arma con la quale abbiamo fatto una lista pressoché perfetta Difatti appunto in finale ci siamo presi io e Diego che giocavamo carta per carta la stessa medesima lista E avendo comunque appunto la stessa strategia Quindi il torneo è andato veramente bene I primi 8 turni sono rimasto appunto undefeated E poi all'ultimo turno perderò contro Diego a cui faccio ancora i complimenti La lista di comune accordo con il team e con Diego non uscirà per motivi appunto di nazionali Insomma siamo in periodi nazionali quindi abbiamo deciso di non pubblicarla per questo motivo qui A round 7 ho preso Gianni Barone Player molto forte di Napoli che ha giocato Sprite Purely Un mazzo veramente particolare Che ha una combo fortissima Nando primo è quasi infermabile il mazzo Come vedete adesso G1 io parto senza interruzioni E lui diciamo mi fa doppio noir che basse avanza Molto particolare il fatto che ha deciso di non utilizzare il reparto Sprite in questo game 1 Probabilmente decide di non usare il reparto Sprite quando col secondo Purely Come vedrete rivelerà Delicius Quindi rivelando Delicius ha la possibilità di evocare un noir subito nel suo turno E poi uno nel mio con la trappola Quindi presuppongo che la scelta di non evocare gli Sprite Fosse dipesa dal fatto che il secondo gatto bianco ha rivelato appunto Delicius Qua fa baby noir Con il baby noir setterà la trappola per fare noir nel mio turno Qua appunto scarta droplet E evoca il secondo gatto bianco Quella quale appunto come ho detto prima rivelerà Delicius E penso sia questo il momento Nella quale decide di non Avere comunque in circolazione il reparto Sprite Qua appunto fa il plump Plump mette sotto 2 Fa una Spalpurely per mettere un materiale aggiuntivo a plump Che lo consente di evocare noir Con ben 6 materiali Il pesco in stand by fa baby noir per pescare uno E fa la trappola con la quale evoca l'altro noir Con la quale pesca un altro Così in totale ha un noir con 6 materiali E uno con 4 Quindi in totale 10 materiali E sono 5 spinnate Quindi su 6 carte che ho Lui ha 5 volte la possibilità di rimettermi una carta in fondo al mazzo Il che è veramente Forte insomma Quindi qua parto con un unicorno che viene rimischiato Faccio wanted Giungo strega Qua farò strega Scarto ash Una decisione molto particolare Che dipendesse Penso dal fatto che comunque avevo oak in mano Esatto Quindi ho scartato ash per quello Per avere comunque la normal forte di oak Qua decido di fare l'altro noir E di rimischiarmi strega Qua faccio oak Su ash Mi fa noir E mi rimischia ash Così che gli mancano due spinnate Quindi 4 materiali Da noir Qua faccio original E mi prendo ash Molto forte qui Quindi comunque La situazione è molto grave Molto difficile di ribaltare Qua ho i wanted pesco droplet Che mi ha dato sostanzialmente una possibilità minima di potercela fare Però gioca molto bene in quanto a droplet incatenerà poi la trappola dal cimitero Per poi appunto incatenare noir Di rimischiarmi le ultime carte che avevo Insomma Quindi qua appunto faccio temple In temple metto flamberga Qua faccio anima Non attivo poplar Perché voglio avere i due livelli 1 al cimitero Qua faccio droplet Qua faccio droplet Scartando due In realtà potevo anche mandare solamente flamberga Però comunque Per essere sicuro Di Che flamberga fosse Considerata comunque un mostro Perché comunque droplet dice tipo originale Quindi va per evitare dubbi ho scartato due E E qua gioca appunto molto bene Perché ha incatenato la trappola La trappola ha rimischiato I piccolini E in catena Ha potuto fare Il noir grande Per rimischiarmi le ultime carte Io qua passo Sostanzialmente perché penso che magari Mi possa tornare utile Vedere come stende le play O comunque Come se la gioca Qua comunque O.T.K. sempre Con happy Infatti farà monikin cat Monikin cat Medievoca poplar Faccio poplar Di monikin cat Evokerà il gatto nero Con il gatto nero Metterà sotto Happy E quindi qua fondamentalmente È O.T.K. con Con happy E qua scopo Game 2 parto io E parto con una gran mano Avendo unicorno strega Più Mi pare extender Se non ricordo male E skill drain in mano Quindi Veramente un'ottima partenza Lui Non mi fermerà Comunque con unicorno Aggiungo Beert Allora qua planet E qua planet Aggiungo Ferrir Ottima sinergia Con Con Burt Con strega Posso scartare Ferrir E Ferrir Lo posso rievocare Con Burt Quindi Diciamo Parto molto bene Come set original Qua faccio la play Con dragosack Sì qua faccio dragosack Evoco mask Qua evoco ferrir E ferrir Aggiungo 1 Qua lui in risoluzione Non mi fa niente E quindi decido Di non andare Per la polluta subito Ma Farla sostanzialmente Dopo Quindi qua faccio Original Evoco ash Ash poplar Poplar Tempio Tempio metterà Oak Con ash E oak Andrò a evocare Flamberga Qua decido di fare A pollusa Decido di fare A pollusa Anche con Anche se ho pescado Skill drain Perché se lui Mi fa storm Mi fa cosmic Mi fa comunque Mi toglie comunque Skill drain Io devo avere comunque Un board solido Quindi se io mi prendo storm Io voglio avere A pollusa No Quindi È vero che A pollusa Skill drain Vado un po' in conflitto Però la mia idea era Se ha un auto Skill drain Che sia cosmic Catena Oppure storm Spolverino Io ho anche A pollusa Sul board Quindi Sono totalmente Parato E penso di aver giocato Nel modo più safe Possibile Qua appunto Con flamberga Rievocherò I due Due pezzi Oak Mi rievoca un altro Con dragosack E poplar Decido di fare Nightmare Phoenix Perché è un'ottima Carta da avere Su board Con A pollusa Dato che Se colincata I mostri I mostri colincati Non possono essere Tutti in battaglia E quindi Riesco a proteggere A pollusa Non solo Dalla distruzione Di carte effetti Con mask Con mascherina Ma anche In battle Con fenice Qua faccio Oak Infine Mandok E princess Evoco flamberga E flamberga Mi mette sotto Mascherina E qua setto Skill drain Qua Io decido di fare Subito skill drain Perché Fondamentalmente Volevo Giocare attorno A talent e trust Perché magari Giocava trust Con Spolverino E quindi Era proprio Un controsenso Secondo me In cominciare ad attivare Gli effetti dei mostri Quindi io attivo Skill drain Se lui ha un out Skill drain Io ho tutto il board Che può interromperlo Ho princess Algrave O flamberga Mascherina Eccetera Se lui non ha out Skill drain La partita finisce Insomma Quindi E' questo il ragionamento Che sta Alla base Molti Non hanno capito Questa play Di attivare skill drain Quando c'ho Pollusa Ma semplicemente L'ho fatta Per i motivi Che ho detto prima Se lui ha stone Uno spolverino Io devo avere A polluso Sul board Quindi Se lui non ha out Skill drain La partita finisce Qua con Beard Evoco Unicorno Evoco Ferrier E qua Non commetto Nessuna play Rischiosa Entro direttamente In battle E Diciamo Gli forzo Le giocate Lui continua A giocare Quindi Non so Magari voleva Far passare Del tempo Oppure comunque Stava cercando Un out Da poter pescare Il turno dopo Ma comunque Anche pescata Un out Skill drain E' molto difficile Ribaltare Una situazione del genere Io qua mi ricordo Che ho pescato Un'altra skill drain Di turno Quindi ho Ho veramente Tanto Tanto Margine Comunque Di 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 vittoria Insomma Qua fa La continua Probabilmente Cerca di resistere Un altro turno Per cercare Di Di Pescare Non so Un out Però anche Come ho detto prima Anche pescata un out A skill drain E' veramente Difficile Ribaltare Qua Come ho detto prima Non commetto Nessuna play Rischiosa Entro semplicemente In battle E E niente Chiudo la partita Qua fa sleepy Ma Ma dopo Comunque concede Game 3 Molto 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 Bello Questo match Che abbiamo fatto Io e lui Parte lui E Parte Con slip Scarto Angler Quindi una partenza Veramente ottima Fortunatamente Ho droll in mano Che riesce Quanto meno A limitare Le sue giocate E A semplificare Quello che è Il game state Infatti Droll mi aiuterà Molto In questa partita Perché senza droll Diciamo che Il suo board Non era proprio Giocabile Insomma Quindi Quindi qua Va beh Andiamo Continua Aggiunge Uno E in risoluzione Faccio droll Con gigantic Evocherà carota Senza droll Qua evocava Blue Blue Jet Jet Double cross E diciamo che Poi La situazione Si metteva Abbastanza male Qua di gigantic Evoca carota Con pure lili Evocherà Il baby noir Attiva Delicius Con la quale Poi Triggererà Il baby noir E setterà La trappola Qua fa normal Gatto bianco Ovviamente Non può attivare L'effetto Per droll Cioè Almeno Non attiva L'effetto Qua fa Sprint Sprint Manda Angler Angler Evoca Beaver E con Beaver e carota Farà Mannequin cat Questo è il suo board Finale Baby noir Pesca uno In stand by E niente Decido di non fare Subito la trappola Per pescare un altro Qua parto con tempio E metto subito Flamberga Metto Flamberga Perché Avendo accesso Già Agli livelli Uno Ash E pop Eccetera Mettere giù Flamberga E' molto più forte Perché mandarlo via Significa Fondamentalmente Rievocare due No Quindi Molto più forte E mettere giù Flamberga Che Qualsiasi altro Snake Eye Qua evoco Special Ferrier Avevo pescato Anche l'altro Target Che avevo lasciato Nel mazzo Quindi il secondo Ferrier Qua Bonfire Bonfire Aggiungo Snake Eye Ash Faccio Normal Ash Attivo Effetto Lungo Poplar Poplar Evoca Attivo Effetto Lui mi fa Mannequin Cat E Sprint Mannequin Cat Mi rimbalza Ferrier E Sprint Mi rimbalza Ferrier Mannequin Cat Target Sneak Ash E E E E E Qua io decido Di non fare Tempio E Perché ho detto Faccio Tempio Quando lui fa la Trappola Così gli forzo Gli forzo Una spinnata Di Duar Quasi Sicuramente Quindi Decido di Di aspettare Utilizzare Tempio Anche perché La mia idea Era quella Di mandare Flamberga Dalla zona Per poi usare Tempio In un'altra Occasione Mettendomi Magari sotto Qualcosa Con Poplar Quindi non Volevo utilizzarlo Preventivamente L'effetto Di Tempio Qua faccio Wanted Wanted Aggiungo Strega Qua faccio Strega Scarto Un ferry Perché ne avevo Due in mano Così Scarto Wanted Perché ho già Original In mano Quindi le mie Ultime due carte In mano Sono ferry Original Qua fa la Trappola Evoca Nuori Nel mio turno Con Io Attivo Tempio Lui mi fa Nuarmi Di mischia Flamberga E con l'altro L'altra spinale Nuarmi Di mischia Snekayash Io ho evocato Strega per avere Un body in più Per togliergli Un mostro in più Infatti Con strega Riesco a togliergli Red E con poplar Attacco Sprint Così che il game state È molto più semplificato Sul board Non ha nessun tipo Di interruzione Attualmente Probabilmente Ha qualche Entrappo in mano Infatti Mi farà Ash Blossom Io qua Faccio poplar Faccio questa giocata Qui per giocare Attorno ad ash Almeno ho due body Sempre sul board Infatti c'è ash Così posso Posso fare Dark All setup Per dark Qua era molto Difficile la giocata Come molta gente dice Quasi inconsciamente Hai slow playato Hai slow playato Ma qua la giocata Era molto difficile Per sbagliare Una piccolezza Ti comporta Perdere la partita Ma proprio al 100% Quindi la gente che dice Hai slow playato Assolutamente no Assolutamente no E io e lui lo sappiamo Perché comunque La situazione era molto Molto complicata Un piccolo Minimo errore E perdevi la partita Proprio un minimo Di un centimetro Ma poi sono così Le partite tra Magari i giocatori Più esperti Quando L'errore Diminuisce Una partita così Il minimo La minima Distrazione E rischi di perdere E quindi si vuole fare Tutto al 100% Quindi faccio Dark Evoco gigantico Ovviamente Ad esempio qua Se non ci pensavo Su troppo Magari di dark Targettavo Un suo gatto Con la quale Se non mi schiavo Con la trappola Quindi per forza Di cose di dark Devo targettare Gigantic Quindi È molto Bisogna essere Molto Accorti Qua Faccio access code Access code Spacco mannequin cat E la magia continua E niente Passo Niente qua Io sono in vantaggio Di 900 E mancano 3 minuti circa E Di want Ho pescato droplet Molto forte Come pescata E Qua Fa Fa Quick Qua Mi assicuro Che quel noir Non faccia più nulla Fa noir Io qua Droplet Anche qua È molto difficile Questa giocata Perché se io faccio Droplet qui Io facessi droplet Sul gatto nero Lui basta che fa Anima abbandonata Mi prende Mi prende Mi prende Access code E comunque Danno me lo fa Quindi Io devo stare Molto attento Io qua Chain of wanted Così non Così la magia Non va sotto Non va sotto Happy Perché la magia È quella che Mi targetta una carta E Se lo mette come materiale Qua evoca gatto bianco E E Aggiunge Delicius Esatto Qua Lui attiva gatto bianco Io penso Se fare droplet Perché se faccio droplet Qua Ha sempre la giocata Viva di Anima Prendo access code E quindi Decido di Lasciagli risolvere Ovviamente Qua fa Plump Ok Su plump Faccio droplet Scarto 2 Nego Plump E happy Attivo strega Mando tempio Tempio Metto Metto dietro 1 Cioè metto Set original E qui Diciamo che me la sono giocata Molto bene Perché se Avessi fatto prima droplet Aveva lo spot Aveva lo spot per Anima E Diciamo per 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 vincere Però Diciamo Queste giocate Vanno molto ragionate Perché il piccolo Minimo errore E partire dal genere Le perdi Ultimo turno Contro Diego Sfortunatamente Non c'è molto Da Da raccontare Comunque Vabbè Lui parte con una mano Una mano veramente ottima Per andar primo Partirà con Planet Strega Snega yash Bonfire Ogre E comunque Una mano perfetta Una mano veramente perfetta Qua fa Punto Unicorno Unicorno aggiunge Burt Io in mano C'ho impermanence E ash Ok Però la seconda L'ash non ho mai avuto Lo spot per attivarla Perché io qua Io faccio impermanence Ok Lui fa bonfire Io qua non faccio ash Perché Se io facessi Io se io avessi fatto Ash Bonfire Gli davo lo spot Per fare Ita Ita prendo ash Prince Evoco Evoco Snega yash E comunque parte con tutto Quindi questa ash Che ho in mano Era Molto più Rilevante Tenerselo in mano Perché se io faccio Quell'ash lì Se io avessi fatto Quell'ash lì Mi sarei preso Uno talent Ok Non ce l'avevo mai Però comunque Andavo sotto talent In più avevo una carta in meno Magari per scartare la liste O comunque per giocare Nel mio turno Quindi Qua Oramai La combo La risolta È inutile fare ash È nettamente un meno uno Che mi rischia Mi rischia talent Quindi Qua oramai Ash Ash blossom È inutilizzabile Appunto qua parte anche con strega Quindi Parte con Veramente Veramente bene La sua mano Sia esatto È Unicorno Cioè Planet Snega yash Strega Bonfire E Ghostogre Quindi una mano veramente Fortissima Per andare primo Qua fa original Original Evoca Hawk Hawk Ash Qua fa mascherina Con mascherina e strega Selene Selene qua fa la pollusa Poi Hawk E flamberga Evoca l'altro flamberga Attiva flamberga Evoca i tre pezzi I due pezzi E Qua attiva Vabbè Flamberga Mascherina E qua niente Mi farà princess Zelentis E convert E rievoca Unicorno Insomma Quindi La combo Combo standard Diciamo Con tutto Però la combo standard Qua attiva popper Mette dietro Flamberga Può fare Jinfenix E Zelentis E convert Rievoca Unicorno Qua molto difficile Ribaltare Perché ha molte Risorse E Lui ha deciso Di fare subito Flamberga Ci sta Ci sta Qua attivo Planet Aggiungo Ferrir Aggiungo Ferrir Perché Diciamo Forza E gli forza Subito Princess Infatti Lui farà Subito Immediatamente Princess Diciamo Diciamo che La partita È molto difficile Perché se Non ti cappi Questo turno qua Questo è un turno Particolare Perché Lui è partito Veramente forte Con tanto Follow up E se Non riesci a Ticappare In un turno Così Il turno Dopo Perdi 100% Perché Ha troppo Follow up E tu hai usato Tutte le tue risorse Per cercare Di ribaltare Qui niente Qua faccio Poplar E lo nega Faccio Poplar Dal cimitero Metto nella zona Fa Unicorno Con unicorno Mi toglierà Ita Anima Prendo Apollusa E Apollusa Se ne va Perché prova A Equiparsi A Anima Solamente Che poi Anima Non c'è Quindi Apollusa Se ne va Un ruling Particolare Che anche io Personalmente Non sapevo Però Ok Qua faccio Original Mando Poplar Qua evo Qua Attivo Ash E Qua risolve Beard Mi Banna Vi Banna 3 Giungo Poplar Poplar E Qua Diciamo che Non ho Molto Non ho Molto Infatti Quello che Cerco di fare Io Qua Di ragionare Se c'è una Ligna Per Otikappare È molto Difficile Lui Ha Molte Risorse Quindi Non otikappare Significa Pressoché Perdere La Partita Qua evoco Hawke Hawke Evoco Ash Attivo Hawke Evoco Flamberga Non ho neanche Ita Perché Me la Bannata Di unicorno Quindi La situazione È molto Molto Critica Qua Cerco di Forzare Mascherena Per avere Un dark Al cimitero Io ho pensato Gli forzo Mascherena Così ho Un dark Al cimitero Da rievocare Di dark Questo è Quello che Ho Pensato Qua Fa Ita Lui mi ha detto Che ha fatto Ita Per avere La possibilità Di mettere Giù un body In più Qua L'ora venisse Spaccata Perché può Aggiungere Poplar Poplar Entra le Special Quindi ha Un body In più Per non Venire Noticappato Insomma Di qua Faccio Strega Scarto Ash Infatti Come ho detto Prima Non ho tirato Ash Anche Per quello Perché Così ho Una carta In più Eventualmente Da scartare Di strega Qua Metto Il dark Sul terreno Per fare Dark E Però così Facendo Lui Ha sempre Tempio Che può Evocare Flamberga E Qua Io appunto Evoco Due Di Flamberga Di dark Rievoco Mascherena Però Ha veramente Troppi body Perché Contempio Evoca Flamberga Flamberga Se lo spacco Evoca Altri due Non ho Modi Di levarlo Perché Non ho Carte In mano Cioè Non posso Farsi Perchè Sono Anticappo Quindi È Veramente Difficile La situazione Io Non ho Più Nulla Cioè Ho Solamente Quello Sul Borde Quindi Se Sono Anticappo Perdo Il turno Dopo Quindi Cerco In tutti I modi Un modo Per Per Chiudere Ma Veramente Difficile Abbiamo ragionato Anche dopo E Veramente Pressoché Impossibile Vincere Sto game Qua appunto Faccio Faccio Princess Rievoco Flamberga Qua faccio Zelantis Evoco Due Evoco Regen Phoenix Ma qua Sempre Quel Flamberga Giù Che Che Gli evoca Due Body E Praticamente Lo salva Dallo Tk Qua faccio Fini Ci faccio Access Code E niente Qua Poi ci accorgeremo Dopo che Ita Non può Aggiungere Dal Mazzo Perché L'ho Rievocata Di Zelantis Quindi Non è Link Evocata Quindi ce ne Accorgiamo Fondamentalmente Dopo Vado avanti Velocemente Ce ne Accorgiamo Dopo E E niente Quindi Vabbè Alla fine Faccio Little Night Ban Hawk Però Lui Come ho detto Ha un Gran Follow Up Gli ho Ribellato Un po' Il board Ma Io Non ho più Niente Dopo Quindi Difficilmente Si riesce a vincere Una partita Del genere Probabilmente C'è ragionata dopo Con una Talent O con Droplet L'avrei Probabilmente Vinta Perché Alla fine Con Talent Riuscivo A prendergli Quel Flamberga Non farlo Trigger Per evocare Due Pezzi E così Riuscivo A tk Oppure Con droplet Direttamente Riuscire a negare Apollusa IP E Unicorn Ad esempio Sarebbe stato Molto forte Quindi con Una delle due Al posto Di Hach Blossom Riuscivo A Evaltare Però Senza Quelle Carte Lì Diciamo È stato Impossibile Qua Faccio Un Little Night E pesca Puri Ogre Di turn Quindi Diciamo Che La partita Finisce Così Game 2 Game 2 Dura Veramente Poco Io pesco Una mano Con Planet Birth Falò Falò E Talent Io qua Con Planet Decido Di Prendere Unicorno Perché Penso Che Unicorno Sia L'interruzione Più Forte Di Ferrara Mirror Match Quindi Proprio Per Droll Io con Talent Qua Gli tolgo Wanted Che è L'unica Giocata Metto Giù Birth E Passo Qua Devo Sperare Che Non Peschi Giocata Che Glielo Rimischiata L'unica E Qua Pesca Strega Io C'ho In mano Due Falò E No Non va Bene Ho Deciso Di fare Prima Planet Di Falò Perché Con Solo Falò Non Riusciva Ad Arrivare A nulla Anche Se Non Avesse Avuto Imperments Così Non Riuscivo Ad Arrivare A nulla Mentre Magari Con Unicorno Più Burt Riuscivo Magari A Sostenere Una Piccola Partenza Ma Con Imperments Unicorno Poi Eventualmente Io qua Non attivo Burt Perché Ha pure Ogre Per Burt Quindi Ho Deciso Magari Di Aspettare Magari Commitava Quell' Ogre Poi Era Che Non Pescasse Una Giocata Di Turno E Basta Poi Poi A me Uno dei due Falò Se fosse stato Un non Engine Che può Essere Impermanent Slash Blossom Così Riuscivo A Riuscivo A Fermare L'unica Giocata Che pescava E poi Comunque A vincere Il turno Dopo Quindi È stata Un po Un pochino Sfortuna Anche Se non Mi piace Parlare Di Sfortuna Però Effettivamente Non Non ci Potevo fare Proprio Nulla E Niente Qui Chiuderà In modo Semplice E La partita Si conclude Fatemi sapere Come Mi è andato Il torneo E Quale Contenuto Vi Piacerebbe Che portassi Di nuovo Sul canale Faccio ancora I complimenti A diego Per la Vittoria Ma Comunque Ripeto È stata Una vittoria Di gruppo Abbiamo Portato La stessa Identica Lista Ci siamo Presi All'ultimo Turno E Quindi Come Ho Detto Prima Era Già Una Vittoria Prima Ancora Di Disputare La Partita Quindi Sono Veramente Contento Per come Andato Spero Che Comunque Il video Vi sia Piaciuto E Noi Ci vediamo Al prossimo Video